Sofia è una bambina di 11 anni di Montecchio con gravi impedimenti motori e a differenza di tante altre coetanee non è mai riuscita fino ad ora a vivere comodamente una giornata al mare. Fino ad ora, esatto, perché d'ora in avanti, a partire dalla prossima estate, Sofia potrà farlo senza più quelle barriere che le ostacolavano la libertà. Questo sogno diventato realtà è stato possibile grazie alla donazione di una carrozzina completamente personalizzata per Sofia realizzata dall'azienda Jolly Casa Medical. Questa carrozzina, fatta su misura per la piccola, è di fondamentale aiuto per lei e per la sua famiglia, visto che quella tradizionale limitava i suoi spostamenti. Un gesto venuto dal cuore della Proloco di Montecchio con il contributo degli organizzatori dei giochi dei quartieri e che ha commosso la sensibilità di mamma Silvia. Siamo felicissimi perché è uno degli ennesimi segni di amore della mia comunità, che adoro e nella quale sono cresciuta. Dico ennesima perché poi precedentemente a questa mi hanno aiutato anche a costituire un parco pubblico, insomma, un parco inclusivo per ragazzi con disabilità di vario genere. Quindi, insomma, ci hanno sostenuto in varie circostanze. Siamo sicuramente felicissimi perché finalmente potremo godere del mare che amiamo in modo completo con la Sofia, nel senso che finalmente non sarà soltanto doverci appoggiare nel lettino e galleggiare nell'acqua, ma sarà anche poter lei accedere con il suo ausilio in libertà senza un'altra persona che la deva, diciamo, manovrare in qualche modo, piuttosto che vedere la bellezza della battigia. Potremo finalmente, noi che adoriamo, andare alla Baia Flaminia, godercela tutta quanta, da in cima a fondo, insieme a lei. Lavoriamo sulla carrozzina mare ormai da 15 anni. La carrozzina si chiama Ariel. È una carrozzina che nasce con l'intento di restituire alle persone che non hanno mai visto o che vogliono vivere il mare in maniera completa di accedere in spiaggia, quindi di fare una passeggiata sul bagnasciuga e addirittura di entrare fino in acqua e rigodersi il bagno. La cosa che abbiamo fatto per la Sofi la facciamo da sempre. Andiamo a personalizzare il prodotto lavorando su misura, su tutto quello che sono le esigenze, la stabilizzazione e altro, su un prodotto già configurato con, appunto, come dicevo prima, tutta una serie di dispositivi in alluminio e in inox che permettono alla carrozzina di non incombere nella salsedine che potrebbe rovinare il materiale. La personalizzazione avviene in circa sette mesi. Facciamo una presa misura io con il nostro staff tecnico in azienda e lavoriamo su misura mantenendo le esigenze della Sofi in questo caso. Oltre alla spiaggia questa carrozzina mi permette anche di muovermi e di spostarmi sul cemento in quanto ha sì delle ruote particolari, ma anche delle ruote pneumatiche che facilitano l'utilizzo anche al ristorante o nella passeggiata che posso fare magari sul lungomare. Ecco, il prodotto ancora non è finito. Quando sarà ultimato? Allora, ai tempi da oggi, circa un mesetto, per maggio il prodotto sarà ultimato e riusciremo poi a fornire il prodotto finito per giugno Sofi per andare al mare. Noi speriamo ovviamente che questa carrozzina aiuti molto la famiglia anche a gestire la bimba perché è una cosa molto particolare e quindi è molto importante dare una mano. Quando sappiamo che servono queste cose cerchiamo di venire incontro ai cittadini della nostra città.